vai in onda salve buonasera bentrovati a tutte le persone che questa sera ci stanno guardando da casa M come musica questo programma musicale dedicato praticamente agli artisti della musica napoletana io saluto un po' tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando da casa e ovviamente buonasera bentrovati a tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando da casa M come musica corre navigarmi questo programma che è iniziato alle ore ventune e dieci terminiamo alle ore venti e trenta è un programma di musica napoletana quindi salutiamo il nostro editore Angelo Ucciero salutiamo tutta la famiglia di Angelo la signora Narita Francesca Iolanda e tutte le persone che ci vogliono va bene e poi praticamente voglio dirvi una cosa importante poi alle ore venti due e trenta vai in onda il programma di Floriano e allora carissimi amici che consiste nel programma M come musica ci sono cantanti napoletani veramente molto molto bravi molto doc nel mio programma questa sera lunedì signore e signori primo artisti che io vado a presentare è un mio grandissimo amico che io lo stimo lo voglio bene da tanti anni è il mio caro amico Rosario Califano eccolo qua ciao Rosario buonasera a te come stai fatti abbracciare un poco forza Napoli se lo sai anche se tu sei di caserta ma è dedicato in là sempre Napoli 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 e Caserta è un bel gemellaggio di la vita ho fatto anche una canzone appunto Napoli e insulto la cadiamo dopo ma la conosco questa qua quella è una canzone che mi va bene ma tutte le due canzoni mi piacciono lo sai bene anche di mattina abbiamo fatto dei programmi insieme a me ci siamo divertiti e poi diciamo tu sei accompagnata da una bella ragazza la tua ballerina che poi è sciocca l'attrice l'avete un po' la dolce conci tra poco la andiamo a chiamare anche a lei va bene che hai fatto di bene in questi giorni allora io buonasera a tutti voglio salutare in primis tutto lo staff di Partenope tv alla famiglia Ucciero grande Angelo Ucciero amico nostro si tutta la regia Cipriano Peppe Giovanni al grande number one grazie grazie il direttore artistico Renato De Calmi grazie grande amico mio che ci siamo incontrati spesso va bene ci contiamo spesso degli eventi qualche anno fa ancora di più però tu sei diventato più più doc più in grazie ti vedo in molte feste e questo mi fa piacere grazie anche alla tua compagna che balla sa fare un po di tutto quindi hai creato tu una bella coreografia diciamo nella canzone e nel ballo e questa è la cosa di voi come vogliamo iniziare carissimo amico mio Rosario Califano allora Renato iniziamo subito a cantare sensuale e bella sensuale e poi ritorno io va bene sensuale e bella signore e signori anche con vieni anche Conci allora chiamiamo a Conci mannaggia la mia ciao Conci come stai la tifosissima del Nato io la seguo sempre sui social lei sempre con la maglietta del Nato ma secondo me ti sei divertita tantissimo proprio pianto per le emozioni si è andata a fare un po di casino tanto 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 e allora facciamo una cosa mo prendiamo un microfono dopo facciamo parlare anche a Conci perché io voglio sentire un po la facciamo prima esibire e poi dopo la facciamo chiacchierare anche a lei va bene sì allora la canzone qual è sensuale bella a ritmo di reggaeton reggaeton ci vogliono dare il microfono e ora lo vado a prendere vai eccolo qua il microfono per Conci eccolo qua Conci grazie ti sei divertita ma sta acceso sta acceso sta acceso si tantissimo sono emozionata tantissimo senti ma il calciatore che ti piace di più purtroppo non è del Napoli solo questo Ronaldo però non c'entra niente con il Napoli ma è un calciatore del Napoli che ti piace ci sta qualcuno no non c'è nessuno o si mena da sportivo però Ronaldo è da piccola proprio innamorata però non c'entra con il calcio io amo Napoli in tutte le sue dimenzioniamo i napoletani Napoli il calci tutto tutti voglio trasfermi a Napoli ma lui non vuole però diciamo perché caserta con Napoli è molto gemellata per me Napoli non lo so è magica c'è questa città antica che si affaccia sul mare già caserta il mare non ci sta Renato quindi già cambia molto c'è anche altri monumenti anche belli a caserta mi fa piacere infatti mi hanno detto detto le quinte che devo mettere il compitino del gestore Renato me l'ha detto che cosa che devo mettere la paglietta del Napoli la prossima volta che vieni il compitino del Napoli e ti faccio fare anche i palleggi va bene allora la canzone sensuale bella signore e signori con Rosario Califano con la ballerina 12 secondi va bene la tipicofola di qua se sono fatte in nove la tua amica non aspettate vor sta zanata insieme sta va cominciare una mini con chi ne ducca e tacca spilla toate vien da stella capo ad aprirla sensuale bella fotomodella una folla presa che sono cantata e non aspettate ma non aspettate ma non aspettate ma non aspettate arrivo domande quando scende a mezzanotte scioglie le capille quasi troppe esagerate ma che ti fai recombinare tu non ti ammora non ti piace mai nessuno tieni sempre a scusa pronte quasi fidanzate ma sta serietà già conquistare e viaggia sa iupalla o reggaeton e samba e n'goppe n'odje sa canzone n'upalla n'odemi ammora n'amno 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 di te potre ore rindu specchiette vai bella roppe buanda self vai mamma ma mettimi le storie centomila cuore e lai sei la piu seguita di sos arrivo domande quando scende a mezzanotte scioglie treta mille casi troppe esagerate ma che ti fai recombinare tu non ti ammora non ti piace mai nessuno tieni sempre a scusa pronte quasi fidanzate ma sta serietà già conquistare e viaggia sa iupalla o reggaeton e samba e n'goppe n'odje sa canzone non parla n'odemi ammora o reggaeton non ti ammora e n'odemi ammora va bella e n'odemi ammora e n'odemi ammora e samba n'odemi ammora ma che ti fai recombinare Il viaggio assaio parlo O reggaeton di samba E' un copino di saganzone No parlo, no v'emmi ammata Senso alle pelle Rosario Califano Grande Rosario Allora adesso io ti lascio all'altro lato Perché facciamo un artista Poi vieni un'altra volta Perché una trasmissione finisce alle 10 e mezzo Sono 3-4 canzoni ciascuna che dobbiamo fare Allora ci vediamo tra poco Rosario Califano number one Mio grande amico Con la bella Dolce Conci Una persona simpaticissima Devo dire la verità E allora adesso ancora un momento bello Particolare Lei non so quante trasmissioni ha fatto su questa emittente Eh ma lei veramente è una number one E la voglio tanto tanto bene Ogni volta che io la vedevo Non si dimenticava mai di me Salutiamo al direttore Navegato Come anche il mio amico Rosario Califano E allora signore e signori E lei Katia Russo Number one Ciao Katia Buonasera da quanto tempo Ti voglio bene Tutto bene fortunatamente tutto bene Mi fa sempre piacere vederti Sei una bella persona Grazie Canti bene Io ho sempre creduto in te Tu lo sai Lo so lo so benissimo Infatti io ti Ti ho sempre ringraziato Dico proprio sinceramente la verità Grazie mille Che cosa hai fatto di bello in questi Eh ho fatto Ho fatto un bel po' di canzoni Vi ho lasciato minorenne Sottornata maggiorenne Auguri Auguri Grazie Ma già hai preso la macchina patente Non accorgi La sto prendendo La sto prendendo Così anche senza il papà Ci puoi venire a trovare Perché a volte Vabbè ma va presto sempre Perché sennò quello dice Vai a trovare a Renato Senza di me Vabbè in televisione però Ci sentiamo tutti Hai ragione Voglio salutare tutte le persone Che mi stanno guardando da casa Perché ho fatto accendere la televisione A tantissimi di loro Che bello Come la mia mamma A Cinzia I miei fratelli A Lì A tutti quanti Katia Russo Una number one E lei non so quante belle canzoni Che ha fatto Che a me piacciono La maggior parte proprio tutte quante Grazie La verità Senti come vogliamo iniziare Come prima canzone E poi dopo ritorni di nuovo Perché Allora facciamo così Dato che è uno stacco Tra un cantante e l'altro Sì Voglio iniziare con una canzone nuova Sì Ok E facciamo Tu non sei niente più Tu non sei niente più I testi Allora Testo Ciro Renna Arrangiamenti Gianni Romano Vabbè Anche Gianni Tutti amici di me Quindi hai scelto bene Che bella Saluta il mio manager Enzo De Vito Enzo De Vito Stati là Che è anche il mio videomaker Noi lo ricordiamo sempre E allora gustiamoci Questa gran bella canzone Signore e signori Canta Katia Russo Grazie Number one Questa è nata sera Che non mangi Aspetta te Scedate Numare e buccia Mi racconta Ma Mi sono Stangata Saccia verità Tiene ancora Doro Un cuore Che Lala E sta camisa sporca In un rossetto Ficchio forte tu Io so del bene Ma sto Un gazzito Anche sia così Arrogante In fame Prepotente Tu non sei Chi tu Non sei Chi le Che faceva Tutte cose Per St'amore Si cattive Senza Cora Una droga E me Despo Di fine Tre Ti Arredire Poi Maria Buonanotte Dimmi Che uomo sei Ma dimmi Come fai Ti senti forte Quando Allora E me Vate So pronto A perdere Vede Che Facile la c'è riuscita, non c'è niente che vuoi. Mi è imparata tu, che a giverna diventa più forte, e mi soproprio, che a desto la sanna fuori a porto, che non ci veni una risata circa me, ma sai in te l'agrame, come si fa a batta una droga e me, dì spoglio fine tre, tardi direi pomerì a buonanotte, dimmi che uomo sei, ma dimmi come fai, se sienta forte quando al noche me batte, sono pronta a perdere, potete più facile, basta che a me fai cario vestito in te l'agrame, te l'agrame, se io peggio e non manà, sono troppo femmina, io sa ce fingeri, se io creduro avere ragazzo che a niente, che l'agrame si vede l'agrame, ma nasconde la faccia sotto e coperta, ma non si può accampare, non si voglia sta, con un amma che a me tratta come fosse, ma sai l'ordemare e femmara, te l'agrame, tu non ti niente che ho, 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 complimenti Katia, grazie Renato, complimenti veramente, perché oltre che sei una bella persona, canti bene e ci vediamo tra un poco, va bene? Signore e signori, Katia Russo per tutte le persone che ci stanno guardando, a dopo, grazie, Katia Russo, il microfono lo diamo all'altro, dicevo a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, praticamente Avellino, Salerno, Caserta, Benevento e Napoli, poi abbiamo il Basso Lazio, poi abbiamo un po' della Basilicata, un po' della Puglia e anche in Molise, e poi su streaming www.partema.tv, voglio dire una cosa importante signori miei, per chi è di Marcianise, e io poi voglio fare un po' di pubblicità, anche da parte mia, perché la pubblicità è l'anima del commercio, c'è una bella lista a Marcianise, che praticamente si chiama Moderati in azione, e dovete votare Sarno Sapio, però io ho un fogliettino, che ve lo faccio vedere, voglio far vedere al nostro cameraman, se me lo puoi inquadrare, per tutti i signori, 14 e 15 maggio 2023, ci sono praticamente le elezioni dei consiglieri a Marcianise, e anche del sindaco, e allora praticamente, eccola qua, questa bella signorina, che si chiama Margarete Sarno, a Marcianise, guardate, ecco qua, ci fa veramente immensamente piacere, di questa bella pubblicità, è una ragazza molto giovane, che ha veramente tanta voglia, di fare qualcosa di bello, a Marcianise, quindi 14 e 15, potete votare, questa nostra grande amica, voglio salutare anche l'amico Luigi Sarno, Francesco, e tutto lo staff, tutte le persone che questa sera, sono qui, e salutiamo anche il nostro editore, Angelo Ciero, che ci sta guardando da casa, ancora un momento bello, importante e particolare, per la musica napoletana, carissimi amici, sempre Forza Napoli, finalmente abbiamo preso questo scudetto, ma quante belle soddisfazioni, ma quante belle soddisfazioni, stiamo avendo, questa è la cosa bella e più importante, ma andiamo ancora avanti, ancora con un grande amico mio, oltre che io saluto, suo zio, che è un amico da sempre, ce lo conosco da tanti anni, il mio amico, Tommaso del Prete, ma il nipote canta veramente bene, come dice, tal zia, tal nipote, però chi lo, un zio, non è che sapeva cantare, sapeva fare altre cose, però ci sta, Tommy Valentino, che è molto bravo, eccolo qua, Tommy Valentino, sei invitato giovedì, per una bella festa a Marcianese, ci sarai anche tu, sei contento? Sicuramente. A bella cosa, dobbiamo fare una bella cosa, veramente, perché mi fa piacere, tramite praticamente, i nostri amici consiglieri, candidati, hanno scelto anche te, a cantare, va bene, poi ti faccio sapere, tutta la situazione, allora, che mi dici di bene, tutto a posto, tutto bene? Tutto a posto a te. Tutto a posto, ci siamo divertiti venerdì, complimenti, perché sei andato veramente molto forte, questa è la cosa più bella che ti devo dire, canti bene, e mi fa piacere, che poi sei anche il nipote di un mio carissimo amico, perché poi il tuo zio, mi chiamò qualche anno fa, disse, io ho un mio nipote, che è troppo bravo, di la verità, lì mi passò un po' di tuo materiale, di la verità, veramente bravo, tuo nipote, però, oggi giorno, ci vuole un po' di fortuna nella vita, questa è la cosa più importante, sicuramente, sicuramente, però, se tu riesci a trovare la canzone giusta, va bene, come vogliamo iniziare come prima canzone? Allora, vado a cantare l'Indiana, fermati, poi dopo devi uscire, viene un altro artista, poi entri di nuovo, perché è una termissione, che è terminale, va bene, allora, signore e signori, Tommy Valentino, con questa gran bella canzone, che si chiama, l'Indiana, number one, vai, vai tutto, a posto, stai sempre a mare, e tu sei fatta a scuro a scuro, a rete scoglio, e io solo, tutta a noi, ti hai fatto pura mascherina, caleo crema, e un bagnino, già tu hai fatto penna nera, come sei sempre sul sentiero della guerra, ti faccio il filo, e tu mi ho avuto il cuore in terra, sono ammurato, e fai la parte dell'Indiana, ma para figli, e non puoi dire resi, oh, ma para l'Indiana, ma come si è abbronzata, che pelle di luna, a me mi fa morire, ma para l'Indiana, va al piaccia verso la capa, a spiaggia sana sana, e va a dare, lolo, lolo, ma che c'è il tuo, lolo, lolo, si è solo e quindi tu, ma para l'Indiana, si come un vulcano, non voglio rendere in mano, tutti i marciam per i sciam, tu tieni sempre, che la faccia di capilla, le braccialette colorate, tutte belle, è un brullone, di una forma, di un'indiana, è sotto la tenda, ma come si è abbronzata, tutti i marciam per i sciam, ma para l'Indiana, ma come si è abbronzata, che pelle di luna, a me mi fa morire, ma para l'Indiana, va al piaccia verso la capa, a spiaggia sana sana, e fatta la volata, lolo, lolo, ma che c'è di il tuo, lolo, lolo, si è solo e quindi tu, ma para l'Indiana, si come un vulcano, ti voglio rendere in mano, tutti i marciam per i sciam, bravo, 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 complimenti, a Tommy Valentino, veramente una bella canzone, ci vediamo tra un po', per le altre canzoni, va bene, Tommy Valentino, grazie, number one, carissimi amici da casa, voi che ci state guardando, oggi lunedì, è il primo giorno della settimana, purtroppo quest'estate, non si fa proprio vedere, piove, non poche sole, quattro giorni di pioggia, è un giorno di sole, non andiamo bene, non andiamo bene, sembrava che dicevamo, marzo è pazzo, ma qua dobbiamo dire, maggio è pazzo, allora carissima amici da casa, andiamo di nuovo, con il mio carissimo amico, Rosario Califano, number one, eccolo qua, eccoci qua, eccoci, ricordiamo che Rosario, giovedì saremo a Marcianise, dove sarai tu a cantare, Giovanna Desilio, con tanti ospiti, con Gigi Attrice, e con altri ospiti, praticamente anche per onorare la nostra, social vi daremo informazioni più dettagliate, dobbiamo onorare la nostra candidata, Margaret Sarno, eccola qua, questa è vera, e poi praticamente c'è anche come sindaca, c'è la nostra, lina Tartaglione sindaco, che noi la conosciamo, veramente una bellissima persona, allora caro Rosario, qual è la prossima canzone? Allora, prima che vado a cantare, appunto Renato, salutiamo a tutto, a tutti i telespettatori di Marcianise, che ci stanno seguendo, sicuramente ne sono tanti, sicuramente anche Capodrise, sanno alcuni amici da Santa Maria, Capo Avetra, famiglia Merola, famiglia Madonna, e vabbè poi dopo, man mano salutiamo un po', non ti preoccupare, qual è la canzone? Allora, la prossima che vado a cantare, si intitola L'Amor, Arrive Bam, l'ultima che ho inciso, testo e musica Piero Palumbo, e arrangiamenti il maestro Antonio Aprile, ah, salutiamo Piero e Antonio Aprile, e poi anche te, che veramente sei un nome qua, Conci, di nuovo a ballare? Ballo anche questa, e poi dopo facciamo quella del Napoli, ok, signore e signori, Rosario Califano, number one, wasp Madame, Ho, che sia un nome, non è un nome, perché non è per te, ma amore, vabbè è un nome, ma amore, ma amore, ma amore, ma amore, siamo qui, è più carnal, sono in questi vasi e canta, l'amore canta e la melodia è più carnal, è più dolce che sai è un po' di biglia, è in un privito che non può fermare e bam, l'amore arriva e bam, all'improvviso bam è tutto scritto e sala, dosata ferma un colpo al cuore bam, canto a cire bam cadva durna vivere pura suna tava grellere favore, nuova serie fantastica è l'osiniette flash flash flash, serve altra memoria duemila selfie per rimanenta storia la la la, pur senza parole quanta canzone puoi scrivere in amore canta, l'amore canta è la melodia più carnal, è più dolce che sai è un po' di biglia, è in un privito che non può fermare e bam, l'amore arriva e bam, all'improvviso bam è tutto scritto e sala, dosata ferma un colpo al cuore bam, canto a cire bam cadva durna vivere pura suna tava grellere favore, nuova serie fantastica è l'osiniette l'amore arriva e bam, all'improvviso bam è tutto scritto e sala, dosata ferma un colpo al cuore bam, canto a cire bam cadva durna vivere pura suna tava grellere favore, nuova serie fantastica è l'osiniette l'amore arriva e bam, all'improvviso bam è tutto scritto e sala, dosata ferma un colpo al cuore bam, canto a cire bam cadva durna vivere pura suna tava grellere favore, nuova serie fantastica è l'osiniette e bam, l'amore arriva e bam all'improvviso bam e bam, un colpo al cuore bam, canto a cire bam e bam e bam che bella canzone complimenti mi è piaciuto ma tu mi piaci proprio come canti e come persone grazie Leonardo, ti voglio bene Rosario, allora ci vediamo da poco a dopo, a dopo grazie a Rosario Califano number one gli andiamo ancora avanti carissimi amici voi da casa che ci state guardando di dire che cos'è M come musica musica napoletana dove questa sera ci sono veramente tanti ospiti, ragazzi che cantano veramente bene grazie anche agli autori, arrangiatori ma grazie alla loro bella voce adesso ritorna ancora una bella principessina number one che io la voglio tanto tanto bene e Katia Russo eccola qua eccomi ciao Katia come stai? tutto bene tutto bene ci diamo per la seconda volta il bacio e ce lo diamo sempre perché ti voglio bene certo senti allora tu sei invitata giovedì festa a Marcianise per onorare questa bella signorina che si chiama Margaret Sanno facciamo vedere lui esatto io volevo proprio salutare lei moderati in azione moderati in azione eh sì sì tutti moderati tutti in azione però facciamo vedere di poco fugitile eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo qua e poi diciamo pure che è la sindaco perché poi è la signora Lina D'Artaglione che è candidata a sindaco quindi praticamente ci dobbiamo muovere io voglio salutare l'amico Francesco voglio salutare il papà Luigi e tutte le persone che ci stanno guardando da casa quindi per i signori di Marcianise io mi aggrego ai tuoi saluti ma i signori di Marcianise come li chiamali? Marcianisani i signori Marcianisani esatto sono pregati di votare questa ragazza perché è brava è simpatica c'ha tanta qualità e poi sono ragazze che giovano e che vogliono dare tanto per la città di Marcianise e certo e tu giovedì sei invitata anche tu con noi ti ringrazio ti canterai è un onore è un onore è un onore ti ringrazio voglio salutare il mio sucero che mi stanno seguendo da casa e la mia cognatina Nicoletta mi associo anche io mi associo di cuore veramente e tutto il resto delle persone che mi stanno seguendo perché ne sono tanti voglio salere a Gianni Romano voglio salutare e lo saluto saluto anche all'altro che ti ha fatto il pezzo Francesco Francese che è proprio il pezzo che andremo a cantare che noi lo dedichiamo a tutte le donne come lo dedichiamo anche a Margaret sì a Margaret la nostra candidata che è stato fatto per tutte le donne e si intitola perché sono femmine l'ha scritto Francesco Francese e l'ha arrangiato Gianni Romano che bello e poi io sicuramente giovedì che tu stai a cantare verrà il tuo ragazzo i tuoi amici tutte le persone di Marcianese a vedere te va bene allora signore e signori a Katia Russo number one grazie ci sta a chiedere ci sta a chiedere una libertà che ama solo la sua libertà che già è sposa di te nella d'uncia che invece soffre non ci va accampar ci sta a chiedere un marito ad andare una carcerata e fai insomma il mio padre per il creatore Giustanghi è divorziata che dava, non riesce più a manca s'annamorata E chi ha famiglia non ha tenuto più, è viva in mezzo a strada della città Giustanghi è una mezz'ora, vende il corpo e il puro cuore Capo a chi è l'uomo sapere, chi ne lacrime Perché sono femmina, ti hanno il cuore ma non le tratti Perché sono femmina, sanno combattere senza muri Ti sanno far provare l'emozione, ma se fai male senza una ragione Un viso d'angelo può davanti, peggio anche un diavolo Perché sono femmina, si vanno l'oro e tu diventi un re Ma se fai gianere, anche un castello sanno pagare Si te giuro, non ho paio l'antare, che ti amirà, vorresti tutta la vita E poi da' vanno, da' vanno, da' vanno Su luna femmina, tutta sticozii sape regala C'è stagge perfide non sa bama Perché l'anà denunce droppe geat Che fa irispit dà pò de fa l'asat Sul l'abbò sfitzi dà fa piccigat C'è stagge posa innamor Ma sotè nè rintogor Perché piccere l'ancor E non te va mai avere Perché so femmina Terà il mio cuore ma non l'he tradi Perché so femmina S'ha de combattere senza morir Te s'ha de far provarmi l'emozione Ma si è feimata senza una ragione Un viso d'angelo a parte ventà E' gioco un diavolo Perché so femmina Si vanno loro e tu diventi un re Ma si è fai chiamare Anche un castello sanno fagare Si te giure non va a far l'altare Che ti amerà Vorresti tutta vita E poi ti fa andare davanti a papa Solo una femmina Tutte sti cose S'ha de regalare Perché so femmina Si te giure non va a far l'altare Che ti amerà Vorresti tutta vita E poi ti fa andare davanti a papa Solo una femmina Tutte sti cose S'ha de regalare S'ha de regalare Come vorrei Come vorrei Come vorrei Amore mio Come vorrei Che tu tornassi vita mia E che stasera è troppo triste E troppo uguale Non fosse più L'undanate Bravissima Ci voglio bene Ma vogliamo fare un saluto Ad Angelo Ucciero Ciao Angelo Ci sta guardando Angelo Ucciero Ci sta guardando da casa Con la moglie Con Yolanda Un bacio a tutti i quali Un bacio forte A tra poco Katia Russo Va bene Ciao Katia Russo E ritorniamo di nuovo Carissima amica casa Per chi ha fatto un po' di zapping televisivo Siamo M come musica Ringrazio Cipriano Gabriele Praticamente alle camere C'è il bravissimo Giuseppe E tutte le persone Che ovviamente stanno qui con noi Di nuovo il mitico Tommy Valentino Eccolo qua Direttamente da Marcianise Number One Ciao Tom Ciao Tutto a posto Tutto bello Allora sono contento Per chi in questo momento Ha fatto un po' di televisivo Zapping Perché chi ha acceso Adesso la televisione Dice questi chi sono Lui è Tommy Valentino Qual è Tom La prossima canzone? La prossima canzone È da cantare il duetto con Anthony Na Bambu le quartiere Na Bambu le quartiere Con Anthony Tommy Valentino No Questa è bella Questa qua Tutte notte Tras rindo core Tras indi pensieri Ma in amore Pavan a mezz'ora E se spoglia nur Truccando una bugia Per verività Sotta luce stanghe in affermata Ma in amore 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 E se spoglia una bugia Se vengono una bugia Se vengono una bugia Ma in amore Ma in amore Ma in amore Ma in amore E se spoglia una bugia Facendo una bugia Facendo una bugia Fino a quando Amade E se spoglia una bugia E se spoglia una bugia Sta bamba nei quartieri Rindo core Mettra a sud Aleva a mezz'a strada E la tua vita T'ha venciuto Si pensa a rosa nera Che avresti s'è sposata Ti faccia stessa cosa Non regalano la tua vita Fai sempre insieme Bravo Tommy Tommy Valentino Complimenti Anche all'artista Praticamente Anthony Che bella canzone Grande amico mio Anthony Come lo sai tu E allora Giovedì c'è una festa Anche tu a Marcianese Sarei con noi Presente a Rato e Carmi E con tanti artisti Va bene? Volevo andare Un saluto forte A Mimmo Sarti E a Nino Colino Mi associo anch'io Grandi amici Ciao Mimmo Ciao Nino Colino Grandi amici miei Ci vediamo tra poco Va bene? Signore e signori Tommy Valentino E ritorniamo di nuovo Con il mio carissimo amico Number one sensuale Bella E già lo sto chiamando Perché è una canzone Che a me piace tantissimo Carissimi amici da casa Eccoci qua M come musica Per chi ha fatto un po' Di zapping televisivo M come musica Corre a nove carmi Questa sera ci sono Tre artisti bravi Che cantono bene Una bella principessina Con due bei Come a me chiamare? Bodycardia 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 Bodycardini Allora Rosa Qual è la canzone Che tu ci canti Adesso? Allora Il prossimo brano Lo dediciamo Alla vittoria Del Napoli Per lo scudetto Napoli Napoli Do Sud Testa e musica Mimmo Sarti Arrangiamenti Mimmo Sarti Che salutiamo E Roberto Pirozzi Ci sta sempre Torse Consi Che ballano No questa qua no No questa qua no Questa qua è Napoli Napoli Non fa niente Non fa niente Non fa niente Non fa niente Ce la facciamo a te Ce la facciamo Non ti preoccupare Va bene Ok Napoli Do Sud Rosario Carifano Number One Siamo noi del Sud Che dammi un'emozione Puro si sta vita e scura La rima a tutto l'ora Siamo noi del Sud Cubiata tanta gente Anima a San Gennaro E non c'è importe niente Quando c'è Napoli Una tradizione Una sfogliatella Con il caffè Se siete un signore Napoli è così A portare in tuo cuore Eppure che è da notte Ci torna una volta Napoli è il Sud E questo è il suo onore Viene tanta gente Pure per canzoni Una pizia mandulina Via che allegri Tutti e io ne guardo Con solo cieli umani La gente tutto a nord Ci chiamano terrore Poi guardano margellini Poi raggiungere bacioli Noi napoletani Siamo voglia più bella D'arabino sempre a volte A ballar ma da rendere C'è basta una risata E tutti ci è passata Noi napoletani Da mamma che è un mazzo Il mio popolo è più all'aria E questo le ha sapere Tu quasi l'onore Viene l'avere Napoli è il Sud E questo è il suo onore Viene tanta gente Pure per canzoni Abitio mandulina Via che allegri Tutti e io ne guardo O solo cieli umani Piense che furtune Noi zi messaggi e ta A te bo fa baur Ma bene noi mamma Viene va se droba mor C'è da regno O saba tutto il mondo O saba tutto il mondo Viene una balle Per amore La balle è una cartolina Nascendo come questa città Siamo tutta brava gente D'una mano e già boll' Poi oggi è la stagione Con i suoi fai rumore E pinucere all'angor Poi c'è grande sta canzone Poi c'è grande sta canzone Grazie E' da Napoli del Sud Dici dolci Ah vieni qua Ecco qua Devi fare dei saluti dolci Ci va A chiusa Dagli il microfono Dagli il microfono Voglio salutare tutti i miei fani Che mi stanno seguendo In particolare la mia amica Maria Teresa da San Nicola la Strada Ciao Maria Teresa da San Nicola la Strada Salutiamo E tutte le amiche E tutti gli amici Perché so tu fai i concorsi di Miss Sabato ho fatto una sfilata Come classificata E hai vinto Due fasce Hai vinto Sì però come terzo posto Ebbene una bella soddisfazione Meglio che niente Ma ti piace però Dicila bene Cosa? Ti piace il campo Io amo il mondo dello spettacolo Cioè tutti i giorni E poi Rosario ci sta a cantare la canzone Ma noi dobbiamo dire Siamo state tutte e due Io sono stato un mese prima Poi e lui dopo A lei non l'ho visto Tu che cosa hai fatto? Hai ballato? Sì Ovviamente Però ti devo C'hai qualche link? Sì sì L'abbiamo pubblicato Devo andare nella tua parte A te l'ho visto Due mesi fa E allora Diamo spazio di nuovo Al prossimo artiste Ci vediamo tra poco A nome di voi A tra poco Salutiamo Roby e Roberto A nome di Roberto A nome di Roberto A nome di Roberto A nome di Roberto Ok Eccolo qua Di nuovo Signore e signori Katia Russo Adesso è dal vivo il fatto Devo fare un pezzettino Perché io Tu lo sai Quando vengo qua Sono piena di sorprese Poi ovviamente Tutte le mie nuove canzoni Le battezzo prima Qui a parte Nella tv E poi le faccio uscire Però adesso Questa qui già uscita E con Anthony Si chiama Ma come tam La presentiamo prima Poi faccio un pezzettino Con Con Cipriano Che già sa Sì E poi presentiamo Ma come tam Che è uscita Su tutti i digital store Quindi mi raccomando Andatela a guardare Ovviamente E' uscita anche il videoclip Sì E' andato molto bene Ovviamente l'ha girato Enzo De Vito Ah lui è bravo Enzo De Vito Chi è meglio Enzo De Vito Però ci fa un cazzo a sempre Perché non risponde A telefono Sì e questa è Quella è difettosa Cioè tu se stai morendo E chiami Enzo Si morto No ma tu già Si morto Rian E poi tanto ti rispondo Tanto per farti capire Comunque La canzone si intitola La Magum Tam E' stata scritta Da Francesco Franzese Arrangiata alla Zeus Record Insieme al grande Nino Danisi Che bello Io saluto tutti coloro Che fanno parte Della Zeus Record E niente Prima di mettere la canzone Ci sei Cipriano? Alza il dito No ma che hai messo? Non è questa Ha fatto lo scherzetto Va bene Nel frattempo Che io faccio il pezzettino Che sai tu Chiama papà Va bene Non ti preoccupa Qual è il pezzettino Che tu vuoi fare? C'è lei Ah che bello Che è quella là Di Maria Nazionale Esatto E vai Allora Sei pronto Cipriano? Sì 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 È pronto Vai Un po' di reverbo Cipriano Un po' di reverbo Cipriano Ok Siamo pronti? Pronti? Via Cipriano sta preparando Il pezzo per fare questa canzone Allora c'è un problema Sulla base Un attimino solo Non ti preoccupare Cipriano Ogni tanto sentiamo anche La voce della regia I nostri signor no E signor sì I nostri notai E questo gli fa piacere Quindi che volevo dire Dì papà Puoi andare a fare una cosa Vabbè Io praticamente Continuo a chiacchierare Con le persone Che ci stanno guardando da casa M come musica Con Renato di Carmine E tanti artisti Della mutica napoletana Adesso andiamo a chiamare Cipriano nel frattempo Che facciamo il pezzettino live Senza base Il pezzettino E No no Senza base Così Poi dopo facciamo quella con Antony Hai capito? Allora senza base Ok Allora dobbiamo preparare Ok Così nel frattempo Trovi quella con Antony Dammi questo Dammi questo microfono Dammi questo microfono Dammi Ok Proviamo Ci siamo? Ok Vai C'è lei C'è lei Cadva ancora Ghiagni C'è lei E sta intornando a nascer Ed io Dono una vozza C'è lei Perché Ti ama come me Eva C'è lei Amiamo questa canzone Però stasera abbiamo detto Facciamo le canzoni Quelle là Grazie Facciamo le canzoni Quelle là Che abbiamo fatto nuove Poi casomai La prossima volta Che ci hai invitati Sicuramente Mi hai ospitato Toni Floriano Sì Toni Floriano è un grande artista Per la prossima volta E tra poco Toni Floriano sarà qua Tra le dieci e mezza Ok Ok Va benissimo Allora quella canzone Qual è quella là Con Antony Magom Tam Eccola qua Eccola qua Ci siamo allora Io vado di là Vado di là Vai 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 Signore e signori Cadianus Sonambe one Magom Tam Magom Tam Mi è stata la prima giornata Che stavo dovere Non mi sbaglio Aggi avuto Tanta delusione Grazie a te Mosegge Sovere amore Mosegge 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 Grazie a tutti 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 Ok, poi ci vediamo giovedì in piazza dove stai a cantare con noi Va bene? Un saluto a tutte le persone che ci seguono da casa Va bene, poi non andare via perché poi da poco finiamo così, siamo tutti insieme Grazie anche al mio carissimo amico Tommaso del Prete E voglio salutare anche il figlio di Tommaso del Prete che ha un olleggiato da Marcianese Rosario Califano, come musica, come musica, come musica, vai vieni qua Dolce Conci, lei è una persona simpaticista Allora Renato, prima che andiamo avanti, come hai detto tu prima di recente sono stato alla RAI, RAI 2 Nel programma di Fiorello, nel programma di Fiorello è andato il 28 aprile, poi su RAI Play, poi si può vedere la replica, nel programma Evviva RAI 2, il format Evviva il Videobox, quando ho due canzoni Io ho sentito quella napoletana Ho fatto sì, tu ho fatto l'americana e poi la mia sensuale e bella Adesso che cosa ci canti? Allora, la melodia e poi facciamo sensuale e bella No, fai sensuale e bella Chiudiamo con questa Chiudiamo con sensuale e bella, che dici? Il mio guardo Che dici? Fai la melodia, non fa niente, vai Facciamo la melodia Allora, sì, allora, la prossima melodia Faccio la più bella di tu Appunto, salutiamo Enzo Di Vito Il videomaker Sì, il videomaker Autore Roberto Pirozzi, amico nostro Che lo saluto Arrangiamenti, maestro d'amore E su questo pezzo salutiamo anche la famiglia Musone Ok, va bene? Allora, poi dopo ci salutiamo Signore e signori, Rosario Califano, number one Grazie mille Sento questo cuore che non batte più Come un vento forte si è volata via E si è spento dentro me E si è spento dentro me la luce dell'amore Non mi ha più chiamato, t'ho cercata assai Come un chiodo fisso nella mente mia Se mi cerchi ti rispondo Questo amore non ha tempo Sono ingiusto e prepotente da portata via Ogni volta che ti penso Guardo il cielo nell'immense Scende una lacrima Si sapi se come gianni un car Senso per due Perti spietro buro gira Mas tu da deser l'amore E te occhi ma ne va t'annamora Dentro tutto il mondo La più bella sei tu Mas tu tiempi vale salutare Come un vento forte e promesso dai Con mano firma d'amore Racconda storie tutte tui Giuranni non ce la sa mai più Emo viva ancora Si ricordo tui E scrivo sti parole E ora gianni ancora E senza scurna voglio raccontare Quanto sei importante per me Sono diastro e il mio bocca Perti fa felice a ci spugiano bene Perti fa stilano Merecchio per le stelle Si sapi se come gianni un car Senso per due Perti spietro buro gira Mas tu da deser l'amore E te occhi ma ne va t'annamora Dentro tutto il mondo La più bella sei tu Mas tu tiempi vale salutare Tutte promesse dai Con mano firma d'amore Racconda storie tutte tui Sto muorendo rindevo insieme A quanto già mi allontanato Pure sono geloso ancora Perché io sai non può fargli sta storia La più bella è di tu Ed in due scure esti notata Quanta lacrima per stata quest'amore Quest'amore che parlava sempre di noi Pure si stanno appicciacati Grazie Grazie Che bella canzone Questa qua l'abbiamo sempre battezzata qua L'abbiamo battezzata qua Brava Quasi tutte le canzoni Però io ti devo dire una cosa Io ti voglio bene Ti stimo come persona Ti voglio bene come amica Però una canzone ogni tanto La puoi dedicare alla tua compagna A dolce E a tua figlia Ma ci mani dice che Un saluto Un bacio A conti Come no Renato Quando abbiamo fatto In estate Quando abbiamo fatto le dirette L'ho salutata A dolce A mia figlia A ragione Ho fatto una canzone pure A ragione Vieni qua Vieni qua A dolce Vieni qua A tu dice proprio una canzone Per lei Di dedicare Prendi il microfono Perché è falso Perché è falso Perché non è vero Dedicare una canzone E dedicarla a scriverla Per il tuo amore È un'altra cosa Ah È perché non è vero Renato Si no Ha ragione Beh beh Perché ci lavoreremo Non vuole una bella penna Dedicare una canzone La posso dedicare Anche a lui Che non canto Ti dedico una canzone Gigi D'Alessio Ma scrivere una canzone Per l'altro è diverso Prego Allora Renato Sì Andiamo a Cesare Che è di Cesare Perché giustamente Noi artisti La maggior parte Le canzoni Le prendiamo direttamente Agli autori Perché diciamo È il loro mestiere Poi E allora Da un qualche autore bravo Perché io voglio dedicare A quella canzone Due canzoni Due canzoni Le ho scritte Quelle per mia figlia Corri e papà E poi Sensuale e Bello Le ho scritte a coppia Con Mino Sabani Che saluto Ciao Mino Quanto mi viene la pena Poetica Uno Si può cimentare E mi ha fatto venire Una cosa per poetica Per dolce conce Va bene No va bene Va bene Renato Prenderò questo consiglio Va bene Ok Ci vediamo dopo Grazie Allora ti saluto adesso Perché dobbiamo chiudere Che adesso arriva Va bene Io ti abbraccio L'ultima canzone E poi sto di là Ci vediamo di là Va bene Alla prossima Grazie al nostro Rosario Califano E poi sicuramente Ciao dolce conce Lo vedremo in tv Di nuovo Al nostro grande Califano Number one Faccio una bella canzone Dedicata a dolce conce Si nocca Ne veni più Va bene Te la ti picca E allora andiamo Con avanti Per la mitica Katia Russo Katia Eccola qua Sempre qui Non ti liberai mai di me Perché tra poco Arriva Floriano Floriano Allora prima di chiudere Prima di iniziare a cantare Voglio dire a tutti i nostri amici Marcianesani Giovedì Votate Margarete No giovedì No giovedì No giovedì No Ah il 14 e il 15 Votate Votate Aiutiamo questa ragazza Perché è veramente Toppo Vuole fare belle cose per Marcianise Quindi votiamola Però mo mi metti gli occhiali Così facciamo l'inserzione bella E bu Allora Elezioni del sindaco E dei consiglieri Marcianise Il 14 e il 15 maggio Dovete modare Questa bella signorinella Facciamolo vedere Dai Mostriamo la nostra camera Facciamo vedere proprio Primo piano Ecco qua Se ne è andato Peppe Primo piano Ecco qua Ecco qua Vediamo il primo piano Così Dovete votare Dovete votare anche La sindaca Donna Che è la bellissima persona Che si chiama Lina Tartaglione Sindaco Quindi dobbiamo essere Veramente vincenti Grazie praticamente a tutte le persone Che ci stanno guardando Canti questa canzone E poi dopo salutiamo Va bene La canzone che ci canti Non è giusto Scritta da Francesco Franzese Arrangiata da Gianni Romano Questa ancora deve uscire E la canti qua Non abbiamo nemmeno registrato Come sempre E sono contento Contentissimo Questa la voglio dedicare A Roby De Roberto Che non manca mai Mi associo anche al mitico Roby De Roberto Number One Non è giusto E' bello Roby De Roberto La mattina Mi chiamavo pomeriggio Mi chiamavo Non teniamo più niente a parlare Ti scordate Sei tu che hai deciso A che serve un bandana Da scusa Non ti voglio più Non è giusto Dico basta E non torna Fa pace con te E' una storia Senza amore Che mai niente volta Tutta cosa Amida Non è giusto Tutto questo Che sto ancora Non voglio soffrire T'ha cerrato Tutta la vita Tu mai niente per me Non ti voglio più Pari Non ti voglio più 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 Devi pensare una cosa In Campania Avellino Benevento Salerno Caserta Siamo campioni d'Italia Perché M M come Margarete Eccolo qua Facciamo vedere Ale Eccolo qua Che bella chiusura A Marcianise Dobbiamo questa bella candidata Di Napoli 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 Che bello Fermiamo Fermo 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 Napoli Perché dobbiamo salutare Eccolo qua Facciamo vedere Dai Eccolo qua Questa è la nostra candidata Noi siamo stati qua Io facevo M come musica Ma M come Margarete Sarno Questo volevo dire Per tutte le persone Che ci stanno guardando Per tutti gli amici di Marcianise 14 e 15 maggio Praticamente moderati in azione C'è la Sarno Che la dovete votare A questa ragazza molto giovane Che c'ha veramente tanta voglia Mi raccomando Votate tutti Di fare qualcosa Per Marcianise Noi vi salutiamo Poi giovedì ci vediamo Alla festa a Marcianise Dove sarò io a presentare Dove c'è la candidata E poi c'è la nostra sindaca Tartaglione Lina Che anche lei Poi faremo sapere ovviamente La data C'è nel senso Il posto dove sarà Domani già siamo in moto Allora io ringrazio Tutte le persone Che ci hanno guardato Grazie Un bacio Vi do appuntamento Per quanto riguarda Renato dei Carmi Venerdì è il number one E tra poco Praticamente arriva La puntata di Floriano Non perdete questa puntata Perché è una puntata Un bacio al mio grande amico Number one Ciao a tutti Buonasera Number one